Il CSA, Consorzio per le Autostrade Siciliane, va incontro all'esigenza dell'Università della Regione e dà il via a uno stage formativo riservato a 80 giovani laureati. L'iniziativa è stata presentata nella Sala Lessi del Palazzo di Orleans, un progetto che favorisce l'acquisizione di ulteriori competenze professionali con la diretta e concreta esperienza da mettere a frutto nel mercato del lavoro per la ricerca di un'adeguata occupazione secondo la propria laurea. Sarà un'opportunità per i neolaureati di lavorare nei cantieri, nelle strutture e negli uffici delle autostrade di Messina Palermo, Messina Catania e Siracusa Gela. Un modo per consentire ai laureati che lavoreranno in due distinti semestri, ciascuno con la partecipazione di 40 ragazzi, nelle aree tecniche, economiche, giuridiche e informatiche, di maturare utili esperienze formative e arricchire così curricula. Un'iniziativa che va ad coniugare la fine degli studi con l'inizio del percorso lavorativo della durata di sei mesi, con un compenso di 500 euro mensili, dove alla fine verrà rilasciato un titolo spendibile in futuro. Un'occasione per certi versi utile e peculiare nella realtà della costruzione e della gestione di una struttura complessa ed articolata come può essere la rete autostradale.